Oggi siamo la prima tappa di un tour che in realtà percorrerà un po' tutta l'Italia e l'obiettivo è quello di condividere con voi qualche competenza, anche qualche considerazione in merito al tema del messo in efficienza del patrimonio costruito. Il titolo è come dire di buon auspicio, restart, c'è l'idea di una ripartenza in termini progettuali, metodologici che ci consenta di ripensare in modo efficiente il nostro intervento architettonico e progettuale. Oggi ci poniamo l'obiettivo di darvi degli strumenti, non soltanto metodologici ma anche operativi che vi consentono anche di verificare la sostenibilità delle scelte che opererete in termini progettuali e la misurabilità dei risultati. Ormai questi due elementi, sostenibilità e misurabilità, sono abbastanza imprescindibili per le scelte di chi deve progettare o garantire al proprio committente i risultati del proprio servizio di progettazione. L'evento è in live tweet, l'hashtag è appunto restart, verrà retweetato da alcuni portali anche del nostro gruppo, vi presenterò man mano i nostri relatori, partirei da subito, ecco non c'è un question time, non perché non vogliamo consentirvi di farci delle domande, ma perché le lascerei alla fine, nel senso che gli interventi sono molto coerenti e inanellati, quindi se avete domande da rivolgerci saremo a vostra completa disposizione e in chiusura. Partiamo con l'intervento di Gaetano Fasano che ringraziamo, che è responsabile dell'unità tecnica edilizia residenziale terziario di Enea e anche prima stavamo facendo qualche considerazione sul tema degli incentivi, tutti li attendono ma ad oggi, sappiamo causa anche un'interruzione diciamo dell'attività politica legislativa, non abbiamo ancora certi le modalità e i tempi di erogazione, quindi ci auguriamo che appunto Dottor Fasano ci possa dare qualche elemento in più oltre che definire un quadro di quelle che saranno le possibilità. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, tema abbastanza scottante che coinvolge parecchi punti di vista, non ultimo quello che le nuove direttive ci stanno indirizzando da seguire e che riprendendo un concetto che prima ha introdotto il nostro moderatore è la misurabilità, è una cosa abbastanza innovativa per quanto riguarda il panorama italiano ma non solo quello italiano perché al di là delle stime che possono essere fatte sui risparmi energetici, adesso la Commissione europea vuole che vengano determinate le misure e quindi i consumi effettivi che vengono risparmiati e non i consumi stimati che si pensa possano essere risparmiati. La Sio sicuramente farò qualche casino. Faremo una prima parte molto veloce per darvi un po' il senso di quello che si sta facendo e perché in questo momento sono determinanti gli incentivi per il nostro sistema paese, fondamentalmente si rivolge al settore del civile perché, questo è uno studio della Comunità europea sviluppato prima della direttiva 27 del 2012, si è visto che è il settore che maggiormente può contribuire alla riduzione dei consumi e di conseguenza anche alla riduzione di grassi malteranti nell'aria. Quindi come vedete siamo tra terziario e residenziale oltre la soglia del risparmio ottenibile nell'industria e nei trasporti. Per i trasporti un discorso un po' particolare non lo affrontiamo perché altrimenti andiamo fuori con l'accuso ma sicuramente è un settore in cui attualmente la Commissione sta cercando di indirizzare alcune misure, alcuni provvedimenti per migliorarne l'efficienza. Perché si sta puntando sul settore del civile? Perché è quello che in termini di risparmi di energie, risparmi di emissioni di CO2 è quello che può dare il contributo più significativo e perché è quello che attualmente è in grado di poter aumentare anche il livello occupazionale, siccome come sapete siamo tutti in sofferenza in Europa e non solo in Europa. Da questo punto di vista incentivare il settore del civile è sicuramente una delle priorità che consentirebbe anche un rilancio del mercato occupazionale. Da punto di vista dei consumi non è che siamo messi tanto bene nel settore civile perché contrariamente agli altri due settori, industria e trasporti, abbiamo avuto un trend di aumento dei consumi sia per il termico che per l'elettrico. Questo è dovuto a diversi fattori, per il termico perché molte delle case che non erano dotate di impianto di riscaldamento adesso lo sono, soprattutto nel social housing e perché poi nelle nostre case per quanto riguarda il vettore elettrico abbiamo sempre più apparecchiature sia per quanto riguarda l'entreatment, pc, stampanti e quant'altro che per quanto investe gli impianti di climatizzazione estiva. Considerate che attualmente sul mercato nazionale, quindi abbiamo circa 32 milioni di abitazioni, circa un 25% è dotato di impianto di climatizzazione, quindi consumi che aumentano e che mettono in crisi, come è stato l'altro anno in Puglia, anche il sistema elettrico di fornitura dell'energia. Velocemente noi abbiamo in questo momento da recepire due direttive importanti che sono la 31-2010 cosiddetta recast e la 27-2012 sull'efficienza energetica che ci impongono tutta una serie di misure e di provvedimenti aggiuntivi rispetto a quanto non sia stato fatto fino adesso. dopo mi soffremerò un attimino su questi due aspetti in maniera sempre molto veloce. Quello che è importante mettere a fuoco, perché è vero che ci sono gli incentivi, ma gli incentivi fanno riferimento a un quadro normativo in continua evoluzione e questa evoluzione potrebbe comportare anche una revisione per quanto riguarda il conto termico, perché è alla firma del Presidente della Repubblica un decreto, un DPR, che aggiorna il 59 del 2009 e che inserisce per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici anche gli aspetti afferenti ai consumi relativi alla ventilazione, all'illuminazione per il terziario e alla climatizzazione estiva. Quindi sono dei fattori che andranno poi a concorrere all'indicatore di riferimento per l'edificio e di conseguenza, siccome il decreto conto termico fa riferimento alla materia certificatoria, bisognerà poi vedere come raccordare i due provvedimenti. La direttiva comunitaria 31-2010 fondamentalmente ha tre aspetti che ci interessano, sempre finalizzato al discorso degli incentivi alla riduzione dei consumi, che sono fondamentalmente questi tre. Il nearly zero building, che l'Italia non ha ancora definito, ma che in linea di massima sarà sicuramente un edificio con un fabbisogno di involucro molto basso e integrato con le fonti rinnovabili. Senza le fonti rinnovabili abbiamo visto che questa definizione difficilmente potrà essere applicata soprattutto nell'esistente. Ho detto nel esistente, perché il mercato attualmente è tutto lì, a parte adesso qualcuno che si fa alcune, scusate la formula, alcune pippe mentali, ma insomma costruito nuovo è circa lo 0,5%, cioè parliamo di pochissima roba, mentre invece il mercato si sta indirizzando sulla riqualificazione dell'esistente, sia per contenere l'utilizzo del suolo, sia per recuperare gli edifici che abbiamo e che tutto sommato sono già funzionanti sul territorio nazionale. Quindi esistente, quindi vuol dire trovare anche delle formule dal punto di vista applicativo della norma un po' più vicine alla realtà e meno teoriche dal punto di vista applicativo e soprattutto trovare quegli incentivi che poi rispondano effettivamente ad una domanda di mercato che è abbastanza complessa e articolata. Siamo il paese che ha le tipologie edilizie, sia nel residenziale che nel residenziale, più eterogeneo e rispetto ad altri paesi abbiamo la difficoltà, oltre le sei fasce climatiche per l'inverno e altrettante per l'estate, quando uscirà questo nuovo decreto poi lo potrete constatare. Allora sono tutti i fattori che concorrono poi a dover definire questo nirali zero energy building in una maniera un po' diversa rispetto a quanto non sia stato fatto negli altri paesi europei. Il secondo parametro è il costo benefici, sempre tornando al discorso dell'esistente, tutti gli interventi che si possono fare secondo due parametri che ha fissato la Commissione europea sono interventi che devono avere un tempo di ritorno per i residenziali inferiori a 30 anni e per i non residenziali inferiori a 20 anni. Tutti gli interventi che superano questi due valori non è che non si possano fare, però diciamo che secondo questo criterio vengono messi in seconda o in terza priorità rispetto ad altri che hanno tempi di ritorno più rispondenti a questi due fattori. E poi c'è la metodologia di calcolo comparativa in cui noi come Paese abbiamo consegnato oggi, anzi non scusate, ieri c'è stata una riunione a Bruxelles in cui gli stati membri hanno dovuto presentare una prima bossa di metodologia comparativa. A che cosa serve questa metodologia comparativa? Serve a dimostrare alla Commissione che i parametri e gli standard che sono stati utilizzati all'interno del quadro normativo rispondono effettivamente a quanti sono gli impegni che l'Italia si è presa nei confronti del 2020-2020 e poi di tutte le altre successive modificazioni e aggiornamenti che ha avuto questa direttiva. Ci sono anche altri aspetti, adesso non voglio entrare nel dettaglio altrimenti non facciamo in tempo, comunque ci siamo messi a posto per quanto riguarda le nostre pecche, perché non avevamo inserito i contratti di affitto per quanto riguarda la certificazione energetica che deve essere esposta in tutti gli avvisi di vendita e o locazione, è allegato alla locazione anche il certificato di prestazione energetica e poi abbiamo ancora, in effetti perché non è stato ancora approvato, queste due carenze che sono i requisiti dei certificatori e appunto l'integrazione del 192 con questo DPR di cui vi dicevo all'inizio. Il DPR tra l'altro conterrà già delle indicazioni importanti perché probabilmente verrà modificata la procedura per quanto riguarda la verifica degli standard degli edifici in cui si interviene, probabilmente non si seguirà più la metodologia che abbiamo utilizzato fino adesso con il 192 e che fa riferimento fondamentalmente al rispetto di alcuni valori tabellati dagli allegati della legge, ma si procederà con l'edificio di riferimento che è una procedura che è stata già provata e testata in Germania, sembra che funzioni bene e che potrebbe dare una maggiore possibilità di interventi nell'ambito di quelle che sono sia le riqualificazioni che i nuovi edifici. E poi se prendiamo un po' al clonico, gli incentivi, gli incentivi ce ne sono? Sì, sono fatti bene? Allora io vi dico no, funzionano male, secondo me, mi diceva che stai demonizzando tutto un apparato, non è che lo sto demonizzando, dico soltanto che queste cose qui devono essere più rispondenti a quello che il mercato chiede e quindi adesso al di là del fondo chiodo che come sapete per la pubblica amministrazione è stato un disastro per tanti motivi, non ultimo il patto di stabilità che tutti conosciamo avere dei vincoli molto forti. La detrazione del 55% che ha funzionato, ha funzionato male, perché dico male? Perché l'incertezza della sua applicabilità negli anni e l'incertezza del fatto che questo provvedimento potesse scadere da un momento all'altro ha molto contratto il mercato e ha fatto sì che nei primi mesi domande pochissime, poi gli ultimi mesi quando la gente più o meno capiva che probabilmente non ci sarebbe stato altro spazio, tutti quanti si sono affrettati a fare domande e quindi per questo dico male, perché bisogna che questo provvedimento abbia una sua continuità e certezza. Deve essere prorogato, il Ministero dello Sviluppo Economico in tal senso ha fatto una proposta, vediamo se il Ministero delle Finanze lo appoggia, ma sicuramente deve essere un provvedimento che deve avere una sua continuità nel tempo. Cioè il conto energia, il conto energia come sapete parte adesso con qualche piccolo problema e noi ci auguriamo che possa essere effettivamente uno strumento, un provvedimento che aiuti la pubblica amministrazione a riqualificare il proprio patrimonio edilizio, ma dobbiamo tener conto che le procedure tutto sommato sono ancora troppo articolate, sono troppo difficili, bisogna capire che bisogna dare un po' di fiducia alla pubblica amministrazione, soprattutto fiducia ai professionisti che voglio dire hanno sicuramente una capacità progettuale e professionale non banale e dare la possibilità alla pubblica amministrazione di poter godere di questi incentivi in maniera congrua con quelle che sono le uscite della pubblica amministrazione, perché se io adesso sto traguardando un po' quello che potrebbe essere lo sviluppo di questo conto termico, se io il contributo te lo do solo alla fine dopo che tu hai finito e non ti aiuto nello start up dell'iniziativa, probabilmente poi questo conto termico i comuni che stanno bene dal punto di vista finanziario potranno sicuramente applicarlo, quelli che stanno male o che hanno problemi di bilancio sicuramente sarà difficile che potranno applicarlo perché comunque sia per poter dare inizio ai lavori bisogna avere un budget di riferimento che non tutti hanno, quindi probabilmente bisognerebbe anche un po' rivederlo da questo punto di vista e dare la possibilità alla pubblica amministrazione di poter godere di una agevolazione nel momento in cui ci siano difficoltà di start up dell'iniziativa. Fermo restando, e questo è importante, torniamo al discorso della misurabilità, che questi interventi non devono soltanto essere interventi finalizzati al risparmio economico della bolletta ma devono essere finalizzati in prima priorità sul risparmio del kilowattora che viene consumato in meno e questo è abbastanza un salto culturale importante per noi perché? Perché fino adesso come sapete con il 115 si mirava soprattutto a dire che le pubbliche amministrazioni dovevano risparmiare punto, risparmiare sul costo della bolletta, il che vuol dire, apro una piccola parentesi, che anche senza fare interventi ma spuntando un prezzo di mercato inferiore del costo dell'energia io comunque avrei ottemperato a quello che il 115 mi diceva di fare e quindi questo aspetto è comunque uno di quei criteri che la direttiva 27 pone all'attenzione degli stati membri e quindi bisogna entrare nell'ordine delle idee che la pubblica amministrazione quando fa un intervento oltre al risparmio, tutto quello che abbiamo detto prima, deve avere un sistema che assicuri il risparmio del kilowattora consumato e non è banale. Poi ci sono i titoli di efficienza energetica, penso che tutti li sappiate, questo è più indirizzato verso l'industria, sapete che c'è stata una revisione un po' della procedura, verranno emanate penso a breve le nuove linee guida per poter utilizzare questo tipo di strumento e si sta pensando anche qui di inserire una serie di aperture per far sì che il mercato possa utilizzare questo strumento non soltanto per i distributori o per l'esco ma anche per altri soggetti e si pensava anche per esempio agli amministratori di condomini. Quindi anche qua ci si sta ragionando con le solite beghe che ci sono all'interno delle varie lobby però speriamo di riuscire ad arrivare poi a trovare una soluzione al problema che non è semplice. Conto termico, ho preparato qualche slide, poi naturalmente nel moderatore adesso fra un po' mi bacchetta perché sto nei border time. Comunque il conto termico a chi è indirizzato? A parte il fatto che è finalizzato a promuovere presso la pubblica amministrazione interventi di riqualificazione e anche qui perché a parte il fatto che la pubblica amministrazione come sapete con il 55% non aveva possibilità e col fondo chiodo ci sono i problemi che vi ho detto prima ma fondamentalmente questa indicazione forte viene dal fatto che la direttiva 27 2012 impone a tutti gli stati membri di riqualificare il 3% della superficie utile degli edifici della pubblica amministrazione centrale. La 27 parla soltanto pubblica amministrazione centrale quindi vuol dire ministeri, agenzie del demanio e tutto quello che ne consegue. Non dà indicazioni specifiche e puntuali sul patrimonio pubblico in generale ma il patrimonio pubblico in generale è ripreso dalla direttiva 31 che non dà un'indicazione di quanto bisogna ammodernare e riqualificare per anno ma dà l'indicazione forte che la pubblica amministrazione deve dare l'esempio e quindi deve essere quella che maggiormente rispetto ad altri settori si deve impegnare per dimostrare soprattutto agli utenti che riqualificare è una cosa giusta e soprattutto è utile per quanto riguarda il bilancio sia economico che energetico del sistema paese. Quindi c'è questa forte spinta verso la pubblica amministrazione che è l'unica all'interno del decreto che può godere di questi benefici intervenendo sull'edificio, sull'involucro edilizio, mentre invece tutta la parte che afferisce all'impiantistica è aperta sia alla pubblica amministrazione che al privato. Gli interventi incentivati, come vi dicevo, si possono dividere in due grandi famiglie, quindi soggetti pubblici e soggetti pubblico privati. Chiaramente l'intenzione di questo decreto è di far sì che la pubblica amministrazione intervenga edificio pieno, quindi evitare possibilmente di fare interventi parziali perché non sempre sono così efficaci dal punto di vista costo-beneficio, inteso come investimento del pubblico denaro per fare riqualificazione. Ma è anche vero che, essendo eterogeneo il parco immobiliare, come vi dicevo, chiaramente noi ci troviamo di fronte a situazioni in cui in alcuni edifici si può intervenire soltanto parzialmente. Non voglio dire che sono gli edifici vincolati perché sarebbe veramente banale, ma soprattutto quegli edifici in cui per struttura, per utilizzo, perché poi questi interventi vengono fatti con il personale che ci lavora dentro, o per particolari situazioni geomorfologiche, non consentono di fare altri interventi se non quelli parziali. Però l'intenzione è quella di far sì che si faccia un intervento edificio pieno. Per quanto riguarda la parte impiantistica, come vi dicevo, c'è questa possibilità anche da parte del pubblico e del privato, tenendo conto che tutti questi interventi sottendono a una diagnosi energetica che per il pubblico è remunerata al 100% e per il privato al 50%. Perché diagnosi energetica? Per il discorso che vi facevo prima, perché la certificazione sicuramente è uno standard di riferimento che però di per sé non ha una valenza dal punto di vista di effettivo consumo dell'immobile, la diagnosi ti dice proprio quello che l'immobile consuma, come lo consuma, come è fatto l'immobile, qual è il profilo di utenza e tutti altri fattori che concorrono poi per il progettista di poter formulare delle raccomandazioni o suggerimenti per poter intervenire. Le modalità di incentivazione sono diverse, possiamo dividere in due famiglie, sono possibilità di rimborso nei cinque anni, nei due anni e addirittura in un'annualità solo se l'intervento è tale per cui stiamo sotto la soglia dei 600 euro. Questo è un meccanismo che il GSE adesso sta mettendo a punto e che probabilmente poi verrà chiarito sul portale del GSE non appena abbiamo finito con loro di chiudere tutto un discorso che fa riferimento sia alle schede tecniche che alle procedure perché in alcuni punti il Ministero dovrà dare poi delle indicazioni più specifiche per chiarire alcuni articoli di questo decreto. Questo direi che più o meno ve l'ho già illustrato, vi dico soltanto gli attori che ci sono, già questo, voglio dire, uno fa un conto termico per snellire e snellire e poi ecco qua ci sta il GSE, l'Enea, l'AEG, la Consip, il Ministero sviluppo economico, ce ne mettiamo un altro, poi vediamo un po' dove andiamo a finire. Sarebbe stato forse più logico che gli attori dovessero essere massimo tre, cioè il Ministero, un ente tecnico che gli dà un supporto e poi l'utenza, il bacino di utenza. Fatto in questo modo vuol dire che il GSE deve dialogare con l'Enea, che l'Enea col GSE, poi si va dal Ministero, poi l'AEG deve dare il suo benestare, poi la Consip deve fare un pezzo. Qui adesso non è inserita ma ci sono anche altri attori che poi concorrono a definire alcune procedure e quindi la macchina burocratica comincia un po' a rallentare la sua velocità e questo non funziona perché per snellire bisogna cercare di trovare quelle soluzioni per cui si prendono delle decisioni sbagliate, giuste che siano, condivise, discusse con tutti gli stakeholder, quello che volete, ma ci deve essere, secondo me, la mia opinione, una testa che poi prende la decisione e si va in quella direzione. Fatto così vi assicuro che per prendere una decisione passa circa, quando va bene, 15-20 giorni, quando va bene, poi quando va male, immaginatevi voi. Quindi anche qua secondo me si sarebbe un po' da capire e da identificare quei soggetti che possono occupare certi ruoli e poi con quelli andare avanti perché se no così per dare un pezzetto a ognuno e fare contenti vari personaggi succede il papocchio. Comunque per il momento è così ma speriamo che possa essere poi migliorato nel tempo. Una cosa importante è la sensibilizzazione, quello che abbiamo visto come Enea è che molte pubbliche amministrazioni di questo conto termico A. non hanno capito ancora di che cosa si stia parlando, B. soprattutto non hanno capito le procedure da attuare e soprattutto quali sono i passi che devono muovere in prima istanza per poter poi partire con tutta l'operatività della riqualificazione e quindi quest'opera di conoscenza, di approfondimento di come ci si debba comportare all'interno di questo decreto è molto importante, così come è importante i modelli contrattuali perché sempre a seguito della direttiva ormai si parla di Energy Performance Contract, quindi il contratto di prestazione energetica che in parte si inseriscono nel 115 allegato 2 col contratto Energy Plus ma siccome qui si parla anche di involucro e non soltanto di impianti va integrato con una serie di indicazioni che la Commissione ha messo in luce grazie a un progetto europeo in cui per fortuna anche l'Italia ha partecipato e quindi abbiamo potuto avere accesso ad alcuni atti che possono risultare importanti ma che comunque concorrono anche questi a far sì che la pubblica amministrazione capisca questi contratti come debbano essere strutturati e soprattutto cosa debbano contenere per essere rispondenti a quanto ci chiede la direttiva. Gli incentivi adesso per il momento come sapete sono 200 milioni per gli interventi sugli edifici e 700 sugli impianti ma adesso questo è uno start up, bisogna capire come gira il mercato. Io spero, mi auguro che questi 200 milioni finiscano presto perché da un lato vuol dire che la pubblica amministrazione si è attivata e dall'altro è un segnale per il Ministero per cercare di rimpolpare questo budget e portarlo a cifre più interessanti e dare modo così ad avere maggiori interventi e questo vuol dire anche maggiore mercato oltre che maggiori risparmi. Tutto questo discorso perché? Perché noi dobbiamo arrivare, come vedete su questa slide, all'ultimo diagramma diagramma a destra. Quindi quegli edifici a nearly energy zero building in cui la nostra richiesta di energia primaria rispetto a quanto potrebbe essere lo scenario di quello che sono le misure attuate nel tempo lo riducano, come vedete, di una quota abbastanza significativa perché si passa con edifici che abbiano consumi al di sotto dei 40 kilowattora metro quadro anno e considerate che questi 40 kilowattora metro quadro anno tengono conto in energia primaria dei consumi totali inverno, estate, acqua calda sanitaria per il residenziale più illuminazione per quanto riguarda gli edifici del terziario. Io ho fatto una cadenata, mi rendo conto, molto veloce, magari dopo se qualcuno ha qualche dubbio vediamo se riusciamo a soddisfarlo. Io per il momento vi ringrazio e credo di aver sfrato qualche minuto. Non c'è problema, grazie, grazie a lei. Volevo fare io una domanda, se è possibile, rispetto al 55%. Rimane fino a giugno, quindi ad oggi noi abbiamo 55% fino a giugno più quinto conto energia ove è attivato. Giusto? Bella domanda. Devo interrogare la palla di vetro. Perché noi stiamo spingendo perché il 55% venga non solo reiterato fino al 2020, ma venga anche un po' aggiornato rispetto a certi parametri. Ma certamente questo aspetta il governo, quando ci sarà un governo, e se il governo poi prenderà in esame questo tipo di problema, che va sicuro dal punto di vista comunitario deve essere reiterato. Poi dal punto di vista politico speriamo che non facciano la stupidaggine di equiparare il 55% con il 50%, portandolo tutto al 36%, perché allora significherebbe che non abbiamo capito niente della vita. Spero di sbagliarsi, sicuramente mi sbaglio, e mi auguro invece che venga reiterato il 55%, anche al limite come è fatto adesso, che è fatto male, ma meglio di niente. Grazie. Grazie, grazie molte. Diciamo che è abbastanza comprensibile il dato che è necessario intervenire diciamo ormai con una metodologia che investa, a parte impianto, a parte involucro, ma questo è un dato che devo dire, insomma frequentando un po' il mondo della progettazione, è acquisito. Il tema vero è capire in che misura e con che percentuali di investimento in termini di soluzioni e progettuali, e soprattutto adottando delle soluzioni che siano qualitativamente affidabili. Ecco, questo è, penso, una sfida per le aziende dei prossimi anni, quella di cambiare, come dire, approccio mentale, anche la comunicazione, e dare una risposta non in termini di prodotto, ma in termini di soluzione. Cioè, il tema vero è, io mi trovo a intervenire su un patrimonio, devo certificare, perché dovrò farlo, per accedere anche agli incentivi, o nel caso in cui non ne abbia bisogno, comunque, per rispondere a un'esigenza che il mio committente dovrà garantire, dovrà certificare di essere in adempimento, quindi abbattere i miei consumi, ma le soluzioni che vado ad adottare, che formeranno, diciamo, il mio sistema edificio, quindi i pacchetti, i sottosistemi, i subsistemi costruttivi, dovranno concorrere in modo garantito a questo risultato finale. Quindi, diciamo, che è un po' quello che stanno facendo anche molte aziende, è quello di definire dei pacchetti, delle soluzioni, anche, diciamo, mettendo a... definire dei sistemi veri e propri costruttivi, che, diciamo, tra virgolette, allevino il progettista dal dover fare una serie di verifiche, che a volte non è nelle possibilità, insomma, di fare. Diciamo, molte volte si compra un po' il prodotto a scatola chiusa, insicura, cioè, essendo certi del risultato finale. Diciamo che proprio oggi l'obiettivo è questo, cioè, di dimostrare come alcune aziende siano già partite, abbiano già percorso parte di questa strada, e Cristina Carletti e, appunto, il professor Cellai, in realtà, l'Università di Giuseppe di Firenze, ci daranno un po' un quadro di quali sono gli interventi possibili e di quale strategia, non sempre, ma in molti casi, sia meglio percorrere per ottenere un risultato massimamente, diciamo, garantito. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Cristina Carletti, con il collega Gianfranco Cellai del Dipartimento di Ingegneria Industriale. cercheremo di chiarire alcuni concetti, più che altro sull'adozione di opportune strategie per il controllo del processo progettuale nell'ambito del retrofit del sistema edificio-impianto. Il tema che ci è stato affidato è, appunto, il sistema integrato edificio-impianto, quindi l'impianto e l'involucro. Quindi una breve riflessione su quello che, nell'ambito fisico-tecnico che ci appartiene, per cosa si intenda rispettivamente per involucro e impianto. Generalmente i progettisti, in senso lato, tendono a scindere in maniera molto drastica questi due elementi, che invece ormai da normative anche abbastanza, diciamo, datate, sono già stati considerati integrati dalla legge 10 del 91, diciamo, in poi, storicamente. Tendenzialmente il progettista architettonico tende a concentrare la propria attenzione sull'involucro per formazione, per abitudine, per conoscenza. Ci impone oggi, invece, la normativa e la legislazione vigente di poter avere almeno una conoscenza, seppure parziale, di quelle che possono essere le implicazioni impiantistiche, perché, come diceva appunto il professore dell'Enea, la normativa oggi ci impone la valutazione di un EPI globale, che quindi investe anche la valutazione dell'impianto. Purtuttavia, nonostante l'impianto sia fondamentale, anche nelle nostre latitudini, la tendenza è quella di avere un involucro sempre più performante, un involucro passivo, nel senso che possa autoregolare i flussi di energia e materia in maniera quasi autonoma. E questo, sottolineo, sia il regime invernale che soprattutto per il clima mediterraneo in ambito, diciamo, estivo. D'altra parte, dove non arriva il nostro involucro, allora interviene l'impianto, sia per quanto riguarda la climatizzazione che per altri aspetti. Non ultimo, oggi fondamentale, l'aspetto della ventilazione, che oggi viene inserito a pieno titolo nella certificazione globale energetica dell'edificio, che oggi si può declinare anche nel retrofit in moltissime varianti, dall'implementazione della ventilazione naturale a quella meccanica controllata, a quella ibrida. Mi riaggancio, brevissimamente, perché ne ha pienamente parlato il collega in precedenza, all'evoluzione del target. Siamo abituati oggi a concepire, o dico oggi, in questi ultimi dieci anni, un edificio come un edificio a basso consumo, perché oggi ha pieno diritto i nostri edifici nuovi possono essere così concepiti. Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di portarci verso target energetici ancora più bassi. Si vede bene, scusate dalla slide, l'evoluzione che ci ha portato da un edificio a basso consumo a un target energetico passiva house introdotto da primo nel nord Europa e poi nel nord Italia, che comunque può essere applicato, declinato, anche nel centro Italia, con particolare attenzione a problematiche quali l'inerzia, la ventilazione, i pattern di occupazione e quant'altro, fino ad arrivare a un target NZEB. Questi target, questi ultimi due, fino a qualche anno fa sembravano praticamente irraggiungibili, oggi invece sappiamo che possiamo arrivarci. Certo, il tema del retrofit è un tema più delicato, più controverso, strategicamente molto più complesso rispetto alla nuova edificazione e su questo, diciamo, non ci sono dubbi. Il processo progettuale finalizzato al retrofit lo abbiamo pensato in maniera abbastanza sintetica come una sorta di checklist. Ci preme sottolineare il fatto che il progettista in quanto tale sia in grado di controllare questo che è un processo estremamente complesso che investe molteplici aspetti della progettazione. soprattutto in un processo in cui ci sia la possibilità di verificare i livelli prestazionali dei componenti e delle tecnologie prescelte, che sia possibile misurare le prestazioni, che sia possibile confrontarle con i limiti con cui si sta confrontando il progettista e possono essere i limiti di legge oppure limiti maggiormente performanti, che il progettista sia in grado quindi di fare una valutazione, una diagnosi, mi piace pensare energetica ed ambientale integrata con anche strumenti di misurazione e di valutazione opportunamente predisposti che già ormai sono diffusi sul mercato e che comunque possono essere utilizzati. Il processo progettuale finalizzato a retrofit parte ovviamente da uno che anche diciamo nelle linee guida di moltissime regioni è considerato un prerequisito fondamentale cioè l'analisi del sito. si raccoglie la documentazione inerente al nostro edificio, si conduce a un'analisi morfologica e sui pattern occupazionali particolarmente importante è un'analisi per esempio a nostro avviso sul rapporto di forma cioè il rapporto SSV che spesso viene tralasciato soltanto considerandolo uno dei vincoli per trovare poi il limite di legge del fabbisogno energetico. Il rapporto SSV ci dice come è stato concepito dal punto di vista occupazionale ed energetico del nostro edificio che magari essendo datato aveva delle mire degli obiettivi diversi da quelli della nostra riqualificazione. Importantissima è l'indagine della prestazione dell'involucro quindi la descrizione delle strutture associate ovviamente alla descrizione dell'impianto. Per fare una descrizione completa dell'involucro si possono usare diverse strategie da informazioni dirette o una vecchia legge 10 per quanto possa essere più o meno attendibile mi affido all'abaco dell'Unity S 11.300 e così via oppure mi affido ad una misurazione in opera che oggi è prevista quindi un'indagine con termografia infrarossi un'indagine mediante la misurazione della trasmittanza in opera del componente che mi dice in quel momento con pattern occupazionali attendibili ovviamente seguendo le norme UNI di riferimento anzi le norme ISO di riferimento qual è la trasmittanza di quel componente oppure una metodologia più ampliata soprattutto negli edifici pubblici questo è molto consigliato con l'ausilio di sistemi anche più evoluti quali ad esempio il questionario di soddisfacimento dell'utente che investe non soltanto il tema del consumo e del risparmio ma anche del comfort e questo apre un po' la visione al tema della qualità ambientale e in parte anche della sostenibilità del progetto di riqualificazione quindi intervenire non solo sul risparmio ma al contempo sul soddisfacimento del benessere globale termoigrometrico in primis ma anche luminoso acustico respiratorio olfattivo quindi la ventilazione e ove possibile la qualità dell'aria interna controllando l'uso di sostanze eventualmente nocive presenti nell'ambiente un altro sistema che nella progettazione soprattutto preliminare barra definitiva scusate è importante è quello della valutazione del processo decisionale cioè di valutare preventivamente le strategie che io penso di utilizzare per valutare le strategie progettuali abbiamo diversi metodi a disposizione dall'utilizzo di software in regime stazionario così come previsti dalla normativa vigente a software più evoluti che lavora in regime dinamico cito Energy Plus e Design Build perché è quello che il nostro laboratorio con gli strumenti avete visto USA ma ce ne sono moltissimi questi codici di calcolo seppure un po' complessi devo dire aiutano a prevedere la sinergia difficilmente prevedibile con sistemi dinamici di molti fattori l'involucro l'impianto la ventilazione la variazione dei dati climatici esterni e così via perché lavorano su variazioni orarie o suborarie delle temperature esterne e questi codici di calcolo permettono per esempio di valutare anche interventi sull'involucro più impegnativi per esempio l'uso di schermature solari l'uso di sistemi di controllo a tempo delle aperture delle finestre l'uso di modelli occupazionali diversificati nel tempo ovviamente la valutazione energetica ed ambientale che il progettista si trova a dover fare ha anche una verifica sul piano della fattibilità tecnica evidentemente ed anche economica delle proposte che con questi strumenti di cui si può dotare riesce ad operare in maniera diciamo più precisa la fase finale è ovviamente quella del progetto definitivo ed esecutivo della strategia ipotizzata in particolare gli interventi sull'involucro possono essere divisi secondo l'ottica che abbiamo visto in varie varie sottosub sistemi così come anche classificato dalle norme uni sulla tecnologia architettonica su edifici tipici che costituiscono una buona fetta degli edifici energivoli del nostro paese quindi gli edifici realizzati nel secondo dopoguerra in sostanza si può intervenire sia per il civile sia per il terziario che per il residenziale su vari aspetti individuando quindi componenti a giacitura orizzontale tutti i solai dal solaio contro terra ai solai interpiano ai solai di copertura sia che essi siano piani che inclinati ai componenti a giacitura verticale che alle parti trasparenti in particolare risulta interessante proprio la sinergia su questi comportamenti cioè fra la ristrutturazione dell'involucro opaco e la ristrutturazione dell'involucro finestrato perché attraverso diciamo la definizione di queste opportune strategie si riesce anche a controllare non soltanto il fabbisogno energetico invernale ma anche quello estivo si può intervenire quindi utilizzando opportuni prodotti come sottolineava prima il moderatore cioè prodotti che il progettista sia in grado di valutare per la qualità effettiva che essi hanno con differenti parametri si possono scegliere varie strategie quindi varie strategie di isolamento isolamento a cappotto l'intercapedine l'insufflaggio di materiale isolante l'isolamento dall'interno sapendo esattamente quali sono i parametri da controllare cioè i vantaggi e gli svantaggi di tutte queste tecnologie si può lavorare anche con differenti sistemi vetrati trasparenti scegliendo opportunamente non soltanto le trasmittanze dei componenti finestrati ma per esempio i fattori di guadagno solare e i coefficienti di trasparenza del vetro se il progettista riesce a in un certo senso dotarsi di tutte queste informazioni riesce a combinarle all'interno di strumenti decisionali importanti complessi integrati riesce per esempio in maniera abbastanza fattiva a fare valutazioni integrate del tipo io ristrutturo un mio edificio del secondo dopoguerra con un isolamento a cappotto miglioro le prestazioni delle finestre miglioro la prestazione della copertura inserisco dei sistemi di schermatura solare magari implementando la funzione del vecchio balconcino fra virgolette utilizzato soltanto per funzioni diciamo minime dall'utente ed ottengo per esempio risultati sia per quanto riguarda la riduzione del consumo energetico dell'inverno ma posso paragonare questi consumi con i consumi futuri in estate che sono la vera sfida diciamo della nostra normativa le scelte progettuali quindi devono essere valutate conoscendo dei parametri questi parametri partono dall'analisi dei prodotti quindi il coefficiente diciamo di conducibilità termica del materiale la capacità termica dei materiali fondamentali ai fini del controllo dell'inerzia termica la permeabilità al vapore perché voglio dire quando si va a pensare alla strategia di isolamento termico ovviamente si deve non considerare trascurabile la verifica della formazione di condensa soprattutto imponendo condizioni al contorno cioè pattern occupazionali che siano i più rigidi possibili cioè queste verifiche non devono essere fatte di default dal tecnico incaricato che non conosce il vostro processo progettuale ma le condizioni al contorno deve darle il progettista stesso da questi temi poi si passa ovviamente al tema del componente quindi la trasmittanza l'inerzia termica e soprattutto quando si parla di componenti trasparenti che a maggior ragione nel terziario talvolta sono predominanti rispetto ai componenti opachi le caratteristiche acustiche le caratteristiche luminose le caratteristiche diciamo ai fini appunto dell'isolamento per esempio acustico della facciata non è ovviamente il tema di questa nostra comunicazione però non si può prescindere dal pensare a una riqualificazione globale dell'involucro senza pensare che il componente finestrato sia un componente determinante ripeto per il comfort visivo quindi la luce il fattore medio di luce di urna per l'acustica l'isolamento acustico di facciata standardizzato e non ultimo appunto il controllo dei guadagni solari in inverno ed in estate quindi per concludere diciamo scusate la questa prima parte della presentazione riteniamo che un corretto approccio alla progettazione passi da vari step che abbiamo sintetizzato in quattro momenti la definizione dei requisiti energetici ambientali riferiti alla normativa e agli obiettivi che si pone il progettista la stesura di specifiche su prodotti tecniche la selezione di soluzioni tecnologiche ed impiantistiche di cui parleremo più avanti conformi e la definizione di procedure di verifica su progetto e soprattutto di collaudo e di diagnosi in opera del manufatto lascio la parola al mio collega Gianfranco Scellai grazie mi hanno dato 5 minuti se che parola Ferrari allora cosa dice la normativa l'hanno già detto quindi voi avanti interventi di riqualificazione impiantistica finalizzati all'utilizzo degli incentivi fiscali ne ha parlato Fasano quello che posso dire e quindi mi concentro evidentemente visti i tempi su alcuni aspetti impiantistici ben determinati è quello dell'uso sostanzialmente delle pompe di calore che come sapete sono state assimilate a impianti utilizzanti fonte di energia rinnovabile e quindi risolvendo anche di molti problemi a cui si andava incontro le pompe di calore utilizzano fonte di energia di origine aerotermica geotermica idrotermica quindi tutte fonti di energia rinnovabili sostanzialmente per rialacciarmi un po' al discorso che ha fatto la mia collega se no sembrano due presentazioni completamente scollegate non lo sono noi si parte a livello europeo e ovviamente tutti i programmi di calcolo seguono questa impostazione dalla fase 1 la fase 1 al progetto d'architettura quindi come vedete come si può immaginare gli interventi sull'involucro e quindi gli interventi sulla parte chiamiamola così edilizia per rimanere nel copiare di per terra sono evidentemente tutti interventi fondamentali cioè senza l'intervento sull'involucro l'impianto si fa ma non fa poi tutto quello che potremmo invece esplicare quindi per riassumere brevemente parte 1 il calcolo dell'energia netta il progetto d'architettura l'involucro nella parte 2 energia fornita intervengono rendimenti di impianti quindi carichi termici controllo quindi dei flussi di energia carichi termici piccoli impianti piccoli impianti piccoli ed efficienti impianti piccoli ed efficienti alimentati a fonti di energia rinnovabili si va nella direzione anzi ormai ci siamo nella direzione auspicata da Fasano faccio vedere solo questo esempio allora questo è un esempio del 1978 uno schema funzionale della Zanussi oltre 30 anni fa io mi laureavo e quindi utilizzavo questi schemi come vedete la tecnologia è matura è abbastanza matura insomma più di 30 anni e uso sempre la solita slide quindi evidentemente è matura questo è un impianto come si dice integrato una soluzione integrata qui abbiamo la possibilità di utilizzare ben due fonti di energia l'energia solare che vedete qui che fa capo sostanzialmente a questi tre componenti che sono l'accumulatore dell'energia solare il 15 il boiler che può essere alimentato sia dall'energia solare il boiler dell'acqua calda sanitaria alimentato sia dall'energia solare che eventualmente una caldaia condensazione o da una pompa di calore la pompa di calore a sua volta può essere può fare riferimento a un serbatoio inerziale riscaldato dall'energia solare e quindi insomma siamo quasi nel campo dell'autonomia si potrebbe dire e questi sono gli scenari che potete vedere con un impianto dove sostanzialmente abbiamo un ventil con vettore un comune ventil con vettore con doppia batteria la 13 è la batteria diciamo così solare e la 14 è la batteria che fa capo alla pompa di calore e alla caldaia condensazione a questo punto gli scenari sono questi che si possono avere ovvero la parte relativa al riscaldamento tramite l'energia solare della batteria del ventil con vettore quindi la possibilità di riscaldarsi con il solare termico la possibilità che l'energia solare ovviamente venga accumulata a seconda delle condizioni e circostanze quindi va a incrementare il boiler il 15 il boiler solare la possibilità che l'energia solare vada direttamente ad alimentare il bollitore dell'acqua calda sanitaria tutti i scenari che ovviamente poi c'è tutte le varianti e su tutto il sistema di regolazione che provvede a dirottare l'energia utilizzabile nei modi più opportuni la caldaia o a condensazione o la pompa di calore che diciamo consideriamolo così l'impianto tradizionale ma come capite oramai è diventato saranno sempre di più gli impianti che verranno utilizzati anche perché la pompa di calore in questo caso la batteria 14 del venticonvettore come sapete è inversione di ciclo l'estate mi darà anche il freddo e quindi diceva Fasano rammentava che l'Italia è ai vertici lo vorrei ricordare ai vertici mondiali per l'uso di impianti di raffrescamento estivi quindi non ci facciamo mancare nulla e in ultimo la possibilità ovviamente che la caldaia o la pompa di calore produca un'acqua calda sanitaria quindi come vedete c'è tutta una serie di soluzioni di gambe di possibilità quindi ho trascurato qualcuna per motivi di viabilità e quindi siamo in una situazione di questo genere con quel che abbiamo visto questa è la Toscana noi siamo dal punto di vista climatico in una condizione particolarmente favorevole questi sono valori medioanne rilevati nei decenni e come vedete l'inverno si va da 4 a 10 gradi a luglio dai 20 a 24 sono valori medi non sono ovviamente segnate le punte e una mediana da 12 a 16 gradi bene con questa condizione climatica è evidente che il ruolo di un edificio ben progettato e anche ovviamente nella riqualificazione dell'esistente questo diventa fondamentale cosa accade? accade che sostanzialmente se ho l'andamento a temperatura medianua io con il mio edificio Enzeb per buona parte dell'anno non avrei bisogno degli impianti di climatizzazione sono autosufficienti da questo punto di vista e per quelle situazioni climatiche particolarmente sfavorite entrerà in funzione l'impianto di raffrescamento per l'estate e l'impianto di scaldamento per l'inverno grazie per l'attenzione grazie molte abbiamo detto che l'involucro in questo mix funzionale la fa da padrone e appunto ci facciamo aiutare da Roberto Franceri che è architetto specializzato nel recupero edilizio e anche nella rivalutazione energetica degli edifici e appunto oggi investe anche di referenti e brianza plastica a capire un po' qual è la gamma di soluzioni come dicevo ci sono aziende che hanno già intrapreso il percorso non del prodotto a catalogo ma della soluzione e brianza plastica è una di queste quindi gli interventi che vedremo secondo me sono come dire tutti interventi che diffusi nel senso che sia anche applicati a soluzioni come vediamo storiche ma che possono essere riproposti e che ormai secondo me applicati da anni diciamo hanno una risultanza in termini di efficienza che è come vedremo anche rilevata e testata grazie grazie mille ok perfetto buongiorno a tutti sono Roberto Franceri in realtà io collaboro con brianza plastica sia come progettista che nella qualità di professore presso il Politecnico di Milano e vorrei ricordare innanzitutto che brianza plastica partecipa come sponsor all'interno del settore dell'università all'interno di un corso di progettazione di innovazione tecnologica presso la facoltà di ingegneria edile e architettura a Lecco sempre per il Politecnico di Milano e quindi in qualche maniera brianza plastica ha nella sua genesi una forte spinta innovativa di ricerca soprattutto per quello che riguarda l'innovazione del prodotto e per fare questo naturalmente si affida a quello che è un proprio know-how aziendale ma soprattutto anche alla partecipazione quindi un pochettino a quello che potrebbe essere l'aiuto e lo sviluppo con strutture pubbliche quindi università per poter sviluppare meglio i propri prodotti faccio velocemente una presentazione per chi non dovesse conoscere brianza plastica anche se è abbastanza presente sul mercato anche perché giusto l'anno scorso ha festeggiato 50 anni dalla fondazione quindi un'azienda che sicuramente ha un pedigree un curriculum vita piuttosto interessante nasce a Caratebrianza il primo stabilimento ma poi si è sviluppata con altri siti industriali per poter far fronte a quelli che erano poi gli sviluppi dei prodotti che via via negli anni sono stati studiati e sviluppati dalla brianza plastica e quindi ritroviamo adesso una collezione abbastanza interessante e teoregenia di prodotti per l'edilizia nasce come azienda per la vetroresina ma ha saputo in qualche maniera interpretare quelle che erano anche le spinte di mercato e di sviluppo di quelle che potevano essere esigenze di prodotti succedanei quindi in qualche maniera dall'88 dall'84 quando è stato acquisito e quindi sviluppato il prodotto Isotec ci sono stati una serie di prodotti materiali sempre legati alla residenza e al terziario in quanto legati all'isolamento quindi in qualche maniera ci sono stati degli sviluppi fortemente indirizzati a quello che poteva essere la ricerca anche delle prestazioni oggi naturalmente non guardiamo tutti i prodotti perché non abbiamo un tempo sufficiente ma ci focalizzeremo su quelli che sono due prodotti sicuramente molto interessanti su cui abbiamo fatto anche una presentazione su alcuni esempi di recupero e quindi rimanendo nel tema del restart ed è il prodotto Isotec per le coperture Isotec parete per l'involucro verticale prima di partire su quello che poi è il risultato dei cantieri quindi l'esperienza dei cantieri volevo farvi vedere due schede di ricerca fatte dal Cresme sia nel 2011 che nel 2012 la situazione sicuramente contingente economica non è positiva e giustamente gli edifici nuovi sicuramente si continuano a fare perché c'è comunque una piccola spinta però rispetto al mercato è sicuramente una percentuale infinitesima nella prima scheda vedete quello che è la percentuale di anno in anno di investimenti fatti sia sull'edifici residenziali che sull'edifici non residenziali vediamo come il trend del rinnovo quindi del recupero del miglioramento prestazionale degli edifici in realtà risulta essere ancora un valore positivo quindi di anno in anno c'è sostanzialmente una piccola crescita però c'è rispetto a tutte le altre voci che invece sono in netta discesa l'altra scheda invece è secondo me abbastanza indicativa anche questa perché è molto interessante ed è valutata e qui mi ricollego alla presentazione precedente alla qualità percepita da chi utilizza l'edificio vediamo come la ricerca è stata fatta abbastanza interessante perché divide quelli che sono gli edifici per anni quindi in qualche maniera verifica quelli che sono poi i giudizi su quattro categorie dall'ottimo al pessimo e vediamo come in effetti negli ultimi dieci anni cioè gli edifici che hanno più o meno dieci anni di vita in realtà non hanno il cento per cento di valore positivo sono al 75% quindi nonostante ci siano edifici nuovi gli stessi edifici hanno comunque necessità di una manutenzione o di un miglioramento ulteriore per poter raggiungere la categoria massima mentre ci ritroviamo con qualcosa come il 75% del patrimonio immobiliare presente sul territorio ancora come dire carente di quelle che possono essere degli standard sia prestazionali che di vivibilità per poter ottenere il valore massimo su questa scorta quindi bisogna un pochettino valutare quelle che sono le spinte del mercato quelle che sono anche le esigenze in relazione alle prestazioni vediamo come in effetti anche negli ultimi anni la tipologia costruttiva è cambiata l'impostazione delle valutazioni delle soluzioni sia estremamente rigenerata e quindi in qualche maniera ci sia un approccio soprattutto per i progettisti molto più consapevole molto più impegnativo per cui si passa da sistemi massivi a sistemi invece più leggeri flessibili che possono garantire perché hanno naturalmente una serie di informazioni tecniche collegate quindi sostanzialmente un elemento prefabbricato che possa essere facilmente composto in stratigrafie che possa garantire naturalmente che cosa? le prestazioni oggi abbiamo iniziato parlando di prestazioni continuiamo a parlare di prestazioni perché le prestazioni sono l'elemento che ci dà realmente il giudizio di quelle che possono essere delle nostre scelte progettuali che non si collegano solo al fatto estetico funzionale ma devono garantire un costo e un beneficio e quindi in qualche maniera noi dobbiamo essere legati a quelle che sono le prestazioni reali delle nostre scelte progettuali in questo senso il sistema Isotec si integra totalmente a questa logica perché è un pannello poliuretanico per sottotetto che isola termicamente è una lambda ottimale perché è priorità tra i migliori isolanti che conosciamo ed è sostanzialmente un sistema perché non è solo un pannello ma un pannello che è già rivestito con un elemento in alluminio e ha all'interno già un correntino armato che gli permette di essere naturalmente il punto di aggancio per quello che è la copertura finale ma soprattutto l'elemento di ventilazione sotto copertura vediamo il primo esempio che voi avete probabilmente già intravisto nel filmato iniziale ed è sicuramente un cantiere molto interessante nel centro storico di Firenze e qui parliamo realmente di recupero in realtà proprio in corrispondenza dei 400 anni di vita dell'Officina Profumo di Santa Maria Novella vediamo come l'esigenza nel 2011 di rinnovare e recuperare parte di quello che è naturalmente l'impatto del estetico e decorativo dell'intera struttura ha imposto sicuramente delle opere all'interno delle volte per cui nella parte più pubblica ma soprattutto anche nella parte alta e quindi in tutta la zona che poteva essere ricondotta diciamo alla parte di copertura in questo senso naturalmente ci sono state fatte delle operazioni molto interessanti che sono legate forse a opere meno visibili dall'utente normale però molto più interessanti per noi che lavoriamo invece nei cantieri quotidianamente vediamo come la volta che doveva essere indipendente in realtà era diventata poi anche un punto d'appoggio per l'elemento di legno che naturalmente nel tempo si era flesso e quindi in qualche maniera si era tentato di controbilanciare la spinta del peso della copertura e quindi la prima operazione è stata quella di mettere in sicurezza tutta la struttura e successivamente rifare tutta la parte della copertura in maniera tale che fosse totalmente indipendente dalle cupole le stesse cupole sono state poi rinforzate con fibra di carbonio vediamo come nella struttura in realtà l'obiettivo è stato quello anche di alleggerire proprio per non ritornare a una situazione di appesantimento della struttura che potesse in qualche maniera andare poi a contatto direttamente con le volte e in questo caso vediamo come l'assito in pianella è stato riportato come nella tradizione toscana a cui è poi stato aggiunto naturalmente uno strato successivo dato dalle pannelli di Isotec anche in questo caso vediamo come la posa e l'elemento di appoggio dell'elemento su copertura è estremamente pratico perché vediamo che i pannelli hanno una certa lunghezza quindi hanno la possibilità di poter essere facilmente posati c'è un fissaggio direttamente a secco quindi noi non andiamo verso l'indicazione di colle piuttosto che ma lavoriamo sostanzialmente su quello che è un fissaggio meccanico che è quello che ci garantisce nel tempo maggiore stabilità le code ogni pannello termina con una cosa di ronde di maniera tale che ci sia una sovra posizione quindi un incastro totale tra pannello quello che viene utilizzato nella parte o comunque che viene tagliato viene poi recuperato e quindi anche gli sfresi sono ridotti al minimo e alla fine vediamo come il sistema porta ad avere sicuramente una copertura ben isolata già organizzata per poter avere già un punto di appoggio regolare con passo regolare per poter poi andare a mettere lo strato terminale quindi il pannello è di 3 metri 90 quindi velocemente noi possiamo andare a coprire molti metri quadri di copertura in maniera molto pratica il passo è variabile proprio perché le coperture diciamo in cotto tradizionali variano da regione a regione quindi c'è una certa esigenza di avere una flessibilità anche dimensionale quindi la possibilità di avere già un prodotto che mi permette di avere un passo per cui una definizione di posa per cui facilito anche quello che è poi la posa finale del manto terminale e non ultimo decidere quale può essere la lambda e quindi l'isolamento che io voglio dare a quel tipo di copertura non ultimo parliamo della ventilazione sotto coppo che è un altro elemento fondamentale che va a interagire sicuramente su quelle che sono le prestazioni del pacchetto e quindi vanno a migliorare quello che è anche la riduzione diciamo di carico termico soprattutto estivo all'interno dell'intercapedine tra copertura e manto isolante questa è la scheda terminale di quelle che sono le prestazioni che il nuovo tetto ha naturalmente abbiamo visto che è un lavoro in un intercapedine per cui non lavora a contatto con l'elemento con l'ambiente diciamo utilizzato per cui c'è un aumento successivo anche dato dall'ambiente sottostante però vediamo come in 185 mm di spessore di tutta la soluzione quindi di tutto il pacchetto noi in effetti agiamo con 10 cm di isolante ottenendo un'ottimissima trasmittanza l'altro elemento che ho già anticipato è quello proprio della ventilazione che riteniamo essere sicuramente un punto importante perché naturalmente nei calcoli non viene fuori nel senso che non viene fuori quello che è la specifica della ventilazione ma è l'elemento fondamentale che poi vedremo anche nel discorso di isoteparete che proprio va a migliorare quelle che sono le prestazioni del pacchetto e ne allunga la vita sia del materiale isolante che della copertura finale quindi delle tegole qua vediamo un altro esempio dove le falde sicuramente vediamo un disegno di falda molto più complesso vediamo come però l'elemento geometrico riesce in qualche maniera a ricondurre poi una texture regolare quindi permettere di avere una copertura che sia completamente lineare quindi abbia proprio un gioco di geometrie molto regolare anche in questo caso ambasciata in Belgio a Roma vediamo come naturalmente l'edificio ha un carattere storico molto importante Brianza Plastica si vanta del fatto di aver fatto sicuramente lo potete anche poi vedere nel sito molti edifici storici perché la sorrentendenza indubbiamente punta ad avere una miglioria delle prestazioni dell'oggetto e lavorando alla parte esterna della struttura in coincidenza con quello che è poi il manto finale di copertura in realtà il prodotto non viene visto però dà delle grandissime caratteristiche di isolamento e quindi in qualche maniera viene utilizzato per poter migliorare le prestazioni e non influire su quello che è l'impatto estetico diciamo anche strutturale perché è un elemento estremamente leggero sulla struttura esistente dell'edificio passando dall'inclinato e arrivando al verticale vediamo la foto la termografia che vediamo sulla sinistra fa vedere un tetto molto ben isolato freddo quindi la penetrazione del calore interno non va in copertura e quindi il tetto è freddo in compenso le pareti sembrano quasi trasparenti cioè fanno vedere completamente quello che è la dissipazione del calore quindi lo spreco di energia che noi abbiamo a livello termico sulla facciata sia in fase invernale che in fase estiva ovviamente la soluzione sia nel nuovo che nel recupero è quella di un cappotto siamo partiti con cappotti i primi cappotti che ho visto io in cantiere erano cappotti in polistirolo probabilmente ve li ricordate anche voi da 2-3 cm cose che erano totalmente ininfluenti su quello che era la prestazione reale dell'edificio adesso l'evoluzione naturalmente va avanti e quindi oltre al cappotto e alle prestazioni cappotti che si diventano sempre più spessi quindi molto più prestazionali ci ritroviamo però con dei limiti molto forti che sono dati sostanzialmente dall'impatto estetico cioè il doppio strato finale di intonaco con rete in realtà è solo quello non ci sono alternative l'edificio può essere migliorato prestazionalmente ma esteticamente rimane lo stesso un parete ventilata mi permette invece di avere che cosa uno strato di isolamento estradosso rispetto alla parete esistente una sottostruttura che mi permetta di avere una camera di ventilazione quindi un lavaggio termico e un ultimo elemento in appoggio che fa sostanzialmente l'effetto estetico e in alcuni casi mi aiuta anche le prestazioni di resistenza acustica della facciata per questo è nato anzi è stato lo sviluppo quasi naturale del pannello isotec parete un pannello che naturalmente mantiene quelle che sono le caratteristiche del pannello tradizionale isotec aumenta un pochettino quello che ha le dimensioni ma soprattutto cambia quello che è il disegno del correntino che dovendo collaborare in verticale con una struttura o con elementi direttamente di facciata doveva essere rinforzato e quindi avere una diversa geometria in questo senso gli accessori sono molto minori e la posa diventa molto più interessante anche perché è molto più pratica rispetto alla copertura in questo caso vediamo un esempio e con questo chiudiamo Pordenone casa tradizionale una villetta vogliamo vederla in qualsiasi maniera insomma che dimostra quello che è anche un pochettino il limite architettonico se vogliamo e anche un pochettino quelle che sono le prestazioni il risultato finale sicuramente accetto critiche può piacere o non piacere indubbiamente ognuno poi può fare il proprio commento in merito però quello che io reputo interessante soprattutto da parte del progettista che è stato sicuramente molto coraggioso e la committenza ha seguito questo suo coraggio è quello di utilizzare un materiale che per noi è abbastanza nuovo però a nord Europa è molto frequente che è quello di un elemento metallico in facciata l'elemento metallico che in realtà non è poi così scontato nel senso che la texture vedete che poi viene comunque inclinata diversamente quindi in realtà la facciata non diventa una facciata monotona è una facciata che comunque ha una serie di elementi che ne permettono anche una diversa tipologia e quindi una lettura anche un pochettino più complessa oltretutto poi c'è anche un effetto che è quello di avere una parete utilizzata sostanzialmente per produrre energia e quindi in qualche maniera noi miglioriamo le prestazioni aumentiamo quello che è l'impatto energetico e quindi lavoriamo sulle impianti e quindi ottimizziamo quello che potrebbe essere il consumo dell'edificio i pannelli si posano in maniera molto semplice andando a trovare quello che è la porzione portante di facciata e quindi andando a forare quindi trovando la possibilità di mettere dei tasselli quindi fissare quello che è l'elemento correntino che come nell'isotec tradizionale rimane l'elemento di appoggio ma soprattutto di fissaggio delle due code delle due pannelli e vediamo come anche in questo caso troviamo una linearità che ci permette poi di fare una serie di scelte su quel tipo di materiale poi andare a mettere in facciata qua vediamo il portico che è verso sud o meglio sud-est vediamo come anche qui l'architetto ha deciso il progettista ha deciso di fare un portico in cemento a vista in alternativa alla pannellatura in metallo e come rivestimento finale dell'elemento coperto tutto in legno vediamo come il calcolo anche della profondità di questo portico mi permette di avere un'ombra riportata sulla zona vetrata e quindi noi proteggiamo totalmente la zona vetrata da quello che potrebbe essere un surriscaldamento estivo anche in questo caso vedete come la diversificazione tra elemento esterno e elemento interno di rivestimento con l'elemento a isolamento sia interno che esterno mi permette di avere alte prestazioni di involucro qui di fianco vi ho fatto vedere una piccola schema di quello che è una parete tradizionale ventilata a secco dove devo prima montare un montante poi incastrare gli elementi isolanti separatamente poi fare una seconda struttura per poter applicare la pelle finale in realtà con Isotec Parete noi abbiamo questo passaggio unificato in un unico passaggio quando io vado a mettere il pannello perché ho già tutti e tre i passaggi uniti quindi il feedback è stato sicuramente un feedback positivo del progettista che è riuscito a ottenere un isolamento termico la possibilità di diversificare diciamo la facciata e quello di poter eliminare completamente i punti termici quindi una garanzia di prestazioni legata a una libertà di scelta di quelle che potevano essere l'impatto estetico quindi in definitiva possiamo dire che Isotec ha sicuramente rinnovato quello che è un pochettino la sua offerta o meglio Brianza Plastica è riuscito a rinnovarsi dando un'evoluzione di prodotto e quindi proponendo quello che è Isotec Parete concludo con la certificazione LEED che è sempre di più interessante per noi progettisti perché è una delle possibilità per poter tarare e valutare quelle che sono le nostre scelte quando facciamo un cantiere sia esso nuovo che un recupero noi in qualche maniera costruiamo una fabbrica all'interno di quella fabbrica abbiamo dei consumi energetici per realizzare l'opera abbiamo degli scarti abbiamo una serie di problematiche che si vanno poi a collegare a un sistema più ampio che un sistema urbano LEED è questo concetto cioè LEED tenta di calcolare tutti quelli che possono essere diciamo gli importi energetici di consumo e di risparmio che ho nella progettazione e nella realizzazione di un manufatto sia esso nuovo che eventualmente in futuro anche di recupero è interessante perché le aziende e qui mi ricollego a quello che ha detto la moderatrice hanno l'esigenza di dover dare dei parametri hanno l'esigenza di dover dare dei valori per facilitare noi progettisti nel poter progettare ma soprattutto nel poter fare scelte che possono essere sostenibili sia davanti al cliente che davanti a quelli che possono essere futuri strumenti di valutazione per quello che sono le nostre opere e quindi le nostre scelte globali della progettazione con questo ringrazio spero di essere rimasto nei tempi rimando al sito di Brianza Plastica e ai collegamenti naturalmente con YouTube piuttosto che altri social network per poter conoscere meglio quelle che sono le prerogative naturalmente lo storico di Brianza Plastica e tutti i prodotti che Brianza Plastica offre sul mercato grazie grazie Roberto tutta la documentazione verrà comunque pubblicata sul mini sito dedicato all'evento quello attraverso il quale vi siete iscritti quindi comunque e i contatti delle persone che vedete tra i relatori saranno appunto disponibili chiudiamo allora in realtà il patrimonio quando parliamo appunto di esistente come avete visto e sono contenta che i relatori abbiano mostrato degli esempi di architettura diffusa è un patrimonio tra virgolette minuto dimensioni piccole dove in realtà le decisioni che si prendono pesano moltissimo in termini dimensionali quindi chiudiamo diciamo anche tematicamente coerenti con il contesto che ci ospita e parlando di coperture in realtà di cotto ma che hanno delle performance prestazioni assolutamente interessanti adeguate anche parametri di certificazione che sono state citate certo l'ID è una certificazione volontaria voi lo sapete le certificazioni adempimentali cioè quelle regionali hanno parametri ben inferiori vi dico solamente che il trend è quello di adottare invece questa tipologia di certificazione cioè che diciamo tende a obiettivi molto più alti perché in realtà si bene si sposa con tutto un tema che sembra forse straordinario che è quello della rivalorizzazione del patrimonio in termini immobiliari quindi la riqualificazione di immobili che stanno in fondi immobiliari che devono invece riportare come dire il titolo a un livello di performance di spendibilità più alto e quindi sul mercato internazionale ma quello italiano si sta adeguando essere certificati ad esempio l'ID ma ci sono anche altri parametri vuol dire avere un titolo immobiliare una spendibilità una ricollocazione di quelli immobili sul mercato di maggiore interesse quindi questo è un altro meccanismo che insieme a quello incentivante e altri aspetti come dire spinge in quella direzione lascio la parola e chiudiamo la mattinata Alessandro Panichi architetto progettista quindi progettisti appunto mi piace parlano delle soluzioni referente Solava che ci mostrava una serie di casi appunto come dicevamo di architettura diffusa grazie grazie salve a tutti allora sì innanzitutto mi piace dire che starò nei termini perché ho mandato diciamo una serie di slide più che altro come contenitore per fare che cosa cioè che possa rimanere eventualmente come testimonianza su cui poter riflettere allora intanto parlare di manto di copertura in cotto potrebbe essere a dir poco difficile perché è memoria storica che siamo oltre 3.000 anni in cui il manto di copertura questo è un esempio abbastanza interessante cioè per dire che è sempre stato tenuto molto in considerazione nell'architettura non soltanto toscana non soltanto italiana ma in generale abbiamo una grossa differenziazione su questo aspetto legata al fatto che per la parte centrale è sempre stato considerato più un ombrello una copertura diciamo che serve a parare così come diceva Vitruvio e poi successivamente Palladio cioè a coprire diciamo una copertura una struttura in realtà oggi questo non è più così cioè nel senso che pur con il fascino la bellezza tutti noi condividiamo che oggi vorremmo ritornare all'anno zero cioè del tipo mantenere questo manto di copertura così com'è perché è la parte affascinante che ha una sua grande valenza una grande importanza perché si caratterizza in funzione dei luoghi con colori con sistema di applicazione eccetera però oggi ecco dobbiamo passare da questo fascino un po' romantico a un aspetto di tipo tecnologico perché su questa copertura insistono tutta una serie di necessità di tipo evolutivo di tipo tecnologico che comportano il fatto o si toglie il manto di copertura oppure bisogna saper integrare fin dall'inizio tutti gli interventi evolvono in questo senso evolvono in questo senso un'integrazione tra quello che è il sistema involucre e gli impianti guarda caso il tetto è il luogo dove si concentrano maggiormente questi aspetti basta pensare semplicemente oggi i pannelli solari termici sistemi linea vita sistemi di ventilazione sistemi dei camini cioè è il punto dove si concentra la massima tecnologia e che non è mai stato pensato in modo progettuale per lo meno nei nostri livelli nel nostro modo di ragionare che è quello appunto di tipo mediterraneo e qui si apre un piccolo capitolo che è legato a questa ricerca che abbiamo condotto tra l'altro i colleghi prima che mi hanno diciamo sono stati prima del mio intervento sono appunto parte integrante fondamentale di questo processo che appunto si chiama ricerca abitare mediterraneo io mi sono occupato in particolar modo dei sistemi costruttivi a secco con struttura in legno con referenza in modo stretto su quello che riguarda gli aspetti legati al recupero quindi agli interventi legati alla ristrutturazione alla riqualificazione ci sono diversi esempi che abbiamo studiato uno tra questi è un esempio applicativo reale quindi di una costruzione che capita a tutti i tecnici progettisti di poter fare una ristrutturazione con una piccola sopraelevazione di un edificio preesistente tra l'altro un edificio degli anni degli anni 30 quindi con caratteristiche estetiche dicevamo prima di profonda necessità di integrare un intervento a quello che erano le nuove necessità quindi legando a che cosa ad aspetti di tipo strutturale con quelli di tipo tecnologico il comfort eccetera che cosa è stato fatto è stato svuotato gran parte questo edificio realizzando strutture a livello solaio completamente a secco in legno quindi un intervento che è stato pensato proprio per il fatto che nella parte sottostante quindi al piano terra c'erano delle attività commerciali che non potevano chiudere quindi un intervento estremamente finalizzato anche da un punto di vista temporale siamo all'interno di un piccolo centro turistico che non permette fra virgolette l'uso lungo nel tempo diciamo di ponteggi di attività di cantiere quindi dover fare un cantiere con un cronoprogramma ben definito e quindi il sistema secco il sistema legno il sistema in questo caso anche della nostra copertura che vedremo ci ha portato a rispettare i tempi ed avere alla fine un risultato che lascia a voi diciamo la condizione la ristrutturazione ha consentito di realizzare un piano in più che è fatto appunto con un sistema platform frame la parte riguardante immediatamente entrando diciamo nella parte copertura a noi interessa perché stiamo esaminando gli aspetti diciamo del luogo dell'abitare mediterraneo quindi gli aspetti più importanti sul comfort e sulla qualità in ambito estivo l'hanno detto più volte precedentemente su questo aspetto perché scusatemi ma chi si occupa di aspetti di fisica tecnica e di termo di aspetti legati all'efficienza insomma la parte invernale la lasciamo ai nostri cugini diciamo che stanno in zone climatiche ben diverse per noi è un processo diciamo abbastanza semplice chiamiamolo così da risolvere molto meno semplice vi dico perché quest'estate due edifici in classe A++ cosiddetto poi il più è finito è quello che grandi edifici realizzati due anni fa quest'estate hanno dovuto comprare il climatizzatore perché erano invivibili quindi nelle nostre realtà gradi giorno 1500 quindi in zone D e questo diciamo è un aspetto che dobbiamo ben tenere di conto e su questa cosa posso condividere in parte poco quanto è stato detto sul fatto che le aziende possano concorrere in maniera pesante importante a fare interventi le aziende hanno già un livello qualitativo di prodotti altissimo per poter fare progetti realizzazioni estremamente funzionali è il gruppo di progetto non il progettista scusate è il gruppo di progetto che deve essere in grado conoscendo nel dettaglio le situazioni del luogo gli aspetti legati all'albedo le condizioni di orientamento e l'uso che ne viene fatto dagli utenti a scegliere un pacchetto sistema quello che vedrete qui non è nient'altro che un'idea su cui ci dobbiamo confrontare ma non è ripetibile non è ripetibile se va bene va bene per questo tipo intervento e non certamente nel vostro intervento ecco vedete questa è l'applicazione mera del fatto che è stato riletto nella parte superiore con il sistema appunto travi e tavelle tavelle anche queste sono incotto non cito il fatto diciamo anche se verrò rimproverato più volte da parte della solava la solava perché mi sembra ovvio avete tutte le informazioni del caso mi sembra un'azienda che non ha nemmeno bisogno di avere la ripetitività del fatto della propria cosa perché lo si vede attraverso diciamo la realizzazione e l'uso di questo prodotto quindi dicevo un sistema di copertura completamente a secco fatto appunto con travi traviscelli e tercere in legno lamellare e la copertura di tipo alla romana fissata anche questa a secco allora ecco che vengo al punto cioè è chiaro che la possibilità dei sistemi per esempio di fissaggio è un punto fondamentale cioè del tipo non posso paragonare il sistema di fissaggio per esempio in un'area come questa dove c'è per esempio forte presenza di eventi come ieri vi faccio un esempio proprio ieri in cui il libeccio viaggiava intorno ai 90 km l'ora quindi c'è un problema di fissaggio di tipo meccanico ma c'è anche un problema di attacchi ai coloruri cioè vuol dire il libeccio per esempio mi porta spessori sulla mia auto che sono venuto oggi c'è uno spessore di qualche millimetro di sale sopra appiccicato è evidente che se io penso di progettare un sistema di fissaggio tale che cioè questi elementi vadano bene lì piuttosto che a 30 km dietro a una collina è evidente che sbaglio di grosso perché se si parla di lead se si parla di certificazione ambientale se si parla di qualsiasi altra cosa la durabilità è un elemento che mi va a infisciare sul livello qualitativo complessivo e della spesa del mio utente perché poi a qui si viene attraverso anche un altro processo che dobbiamo prendere in atto e che ancora non è stato fatto che è quello del processo manutentivo come l'autovettura che a un certo punto ci indica che dopo 20.000 km dobbiamo fare il tagliando e se ce lo dimentichiamo è lei che ce lo ricorda tetto ventilato qui siamo in un sistema un pochino più articolato e complesso di quello dell'uso che ne avete fatto vedere prima è ovvio che un'industria propone un proprio sistema per facilitare come è stato detto qui invece il progettista che purtroppo sono io si va a complicare le cose cioè cercando di creare di una condizione specifica per l'uso che ne viene fatta e le condizioni specifiche ambientali il materiale ecco qui invece l'ho fatto vedere la solava ecco quindi altrimenti poi l'ultimo mi riprendo il sistema diceva appunto è quello di un uso di un materiale antico quindi il cotto su cui si possano avere moltissime soluzioni qui siamo nella falda esposta a destra dove vedete appare soltanto in questo caso il sistema cosiddetto linea vita però poi vedrete che davanti ci sono altri aspetti il concetto della ventilazione e dell'integrazione del sistema impianti è quello che alla fine poi mi interessa diciamo discutere e parlare con voi ed è questa cioè è la pianificazione di ogni fase il sistema costruttivo a secco guardate al di là che possa essere qualcuno dice la la nuova metodologia non è assolutamente vero è un processo che già si conosce che deve essere elemento di integrazione al processo sostruttivo di tipo tradizionale cioè è una fusione nessuno sostituisce niente cioè non esiste un materiale valido per tutte le stagioni questo è quello che credo profondamente però ecco qui possiamo pianificare in modo dettagliato ogni parte del processo quindi che cosa fare in modo che anche i fornitori nel nostro cantiere siano in grado di strutturare il proprio lavoro in fasi che non siano poi quelle che purtroppo succedano all'ultimo momento in cui si è finito l'involucro e si ordinano infissi perché non siamo tranquilli che siano stati montati con trotelai in modo corretto è vero o no questa è la situazione tipica del cantiere nel sistema costruttivo a secco gli infissi si ordinano insieme a tutto il pacchetto vari aspetti finestra tetto perché la finestra tetto è un fatto importante perché è uno dei primi elementi tecnologici che ha una funzione come in questo caso specifico a l'illuminazione b il sistema di che cosa della ventilazione del corpo scala altro aspetto fondamentale però che noi l'andiamo a inserire in un sistema costruttivo a secco dove anche qui non possiamo prendere poi la malta e riempire e poi usare le guaine elastometriche per andare dobbiamo pensarlo fino in fondo il tetto ci aiuta questo lavoro diciamo di evoluzione anche delle aziende nei confronti del fatto che si debba introdurre degli elementi tecnologici e non diventi un elemento di contrasto ma diventi un tutt'uno una progettazione organica come diciamo noi ecco questo era il progetto iniziale a destra e quella è la realizzazione che siamo andati a fare quindi anche la parte dell'impianto fotovoltaico si è integrata e ha fatto oltre che produrre energia elettrica come dicevo prima è diventato anche un sistema schermante perché questo è un orientamento ovest per cui la parte del sottotetto sarebbe stata estremamente vulnerabile a quello che è appunto il periodo del rileggiamento solare e questo è l'ultima slide questo intervento è interessante sì è in classe A mi interessa sì mi interessa molto però mi interessa molto di più il fatto che è un intervento che funziona funziona e deve funzionare bene in particolar modo in tutto quell'arco invece dell'anno in cui l'energia elettrica come è stato detto viene consumata in maniera se andate a vedere nelle note dell'attestato di certificazione non ci sono interventi da fare o presumibili cioè dal fatto che questa attestazione è stata fatta quando ancora le uniti S11000 parte quarta non erano attive per cui c'era da aggiungere quindi miglioramento da un punto di vista quindi non più in classe A ma diventa classe A più e diventa ottima dal punto di vista del periodo estivo perché c'è un sistema di ventilazione meccanica controllata come è stato detto e un'altra cosa che ci interessa è il fatto che questo intervento ha seguito le linee guida dell'architettura sostenibile e qui il carissimo amico Pietro Novelli che si è occupato di queste cose all'interno diciamo della regione toscana ha messo in condizione che questo comune è stato fatto una defiscalizzazione dell'onio urbanizzazione secondaria dell'80% poca cosa non lo so mi sembra interessante cioè a livello di incentivi e di opportunità che sono state fatte e ha ottenuto quest'anno il premio toscano efficienza 2012 e quindi anche i proprietari diciamo ne sono ampiamente soddisfatti un intervento velocissimo per quanto riguarda è una nuova costruzione ma mi interessava farlo vedere perché abbiamo fatto sperimentazione appunto con il gruppo del Taide quindi con Cellai, Carletti eccetera su quello che riguarda le risultanze delle misurazioni del flusso termico nella copertura quindi un'applicazione pratica per verificare in realtà come ha funzionato il sistema ecco quindi passiamo dalla parte teorica al concetto che appunto è stato detto che ormai è parte evolutiva del sistema dell'efficienza ultima parte e non so quanto tempo altrimenti vi annuncio prima prima che la dottoressa mi blocchi che tutto questo è possibile vederlo e scaricarlo all'interno del sito abitare mediterraneo tutto attaccato punto eu qui questi diciamo esempi come altri che non sono stati fatti vedere questo progetto che è stato intitolato ibrido da un collega dell'università di Ferrara che mi ha fatto pubblicazione diciamo su un sistema editoriale punto net e diciamo è un sistema ibrido nonostante sia una nuova costruzione è all'interno di centro nazionale delle fonti rinnovabili a lega ambiente a rispescia che c'è stato quest'estate c'è stata l'inaugurazione di questa struttura anche qui una complicazione da parte del progettista che non vi dico chi è del fatto che poteva essere una struttura tutta in legno in X-LAM invece abbiamo pensato proprio in virtù di questo connubio proprio come associazione di avere un modello che facesse riferimento alla sopraelevazione o all'ampliamento di una struttura preesistente fatta in muratura quindi fatta con mattoni della solava guarda caso cioè in questo caso è appunto un prototipo costruttivo di una residenza reale avete notato che quando si parla di sperimentazione si pensa sempre a un elemento che comunque ha una durata nel tempo limitata all'oggetto della sperimentazione anche qui abbiamo fatto qualcosa di un pochino diverso abbiamo pensato di usare sistemi tali che poi rimanessero lì che potessero essere oggetto di sperimentazione di ricerca di utilizzo per verificare fino in fondo se tutto quello che si è detto realmente funziona quindi questo è il gruppo diciamo di lavoro sia della parte diciamo progettuale che quella delle aziende che hanno partecipato a questa cosa è un edificio come vedete di un'epretta impronta diciamo di tipo toscano un casale quindi fatto appunto per dire testiamo qualcosa di reale oltretutto qui siamo non vi dico in zona di vincolo paesaggistico siamo nel parco della Maremma siamo nel parco nazionale quindi tutto quello che sapete in termini di vincoli qui ce l'avevamo però questo progetto è stato diciamo accolto favorevolmente da tutti gli enti compreso il comune eccetera perché rappresenta e rappresenterà un fatto importante cioè qui da diciamo tra dieci giorni la prossima settimana iniziano le scuole inferiori ad andare a vedere il centro nazionale quindi a fare formazione ed informazione guardate non mettiamolo come secondo fatto che le nuove generazioni hanno bisogno di capire bene di che cosa stiamo parlando cioè vendiamo tutto quello che c'è da vendere in termini di occupazione di lavoro possibilità opportunità ma se non si investe realmente in il futuro dei giovani credo che non ci sia assolutamente nessuna possibilità l'edificio dicevo appunto è ibrido nella parte come vedete rossa è fatta in mattoni pieni alcune valutazioni in regime dinamico anche questo è stato detto questo è il pacchetto copertura che prevede ha previsto l'inserimento sempre nel sistema secco di tavelle in cotto e sia in cotto sia un altro aspetto importante che vi vado a far vedere questo vabbè era il montaggio del tetto ma ci andiamo avanti ecco prima di tutto quello che mi interessa e che mi sono in evidenza è che noi abbiamo un EPE quindi un sistema di riferimento in ambito estivo con un valore del genere la copertura è fatta in questo modo abbiamo inserito una serie di materiali perché il progetto prevede anche un aspetto legato alla filiera corta quindi dei prodotti in questo senso stiamo lavorando con un gruppo di persone per cercare di formare una struttura di produzione di legname proveniente diciamo dai nostri appennini perché il materiale c'è che è una Douglasia che è ormai un prodotto conosciuto e che serve appunto guarda caso per costruire anche i tetti e le costruzioni la canapa e poi andando avanti l'ultima cosa che è questo cioè abbiamo inserito del materiale sempre a seco che è la terra cruda si tratta in sostanza di tavelle che sono state essiccate ma che non sono andate diciamo nel forno quindi a 900 gradi che hanno una funzione di regolazione igrotermica quindi cioè sono nient'altro come un elemento assorbente che assorbe l'umidità quando c'è in eccesso e la riconcede nel momento in cui si abbassa questo livello quindi è un termolegolatore dell'umidità qui abbiamo messo a punto un sistema di fissaggio che come vedete serve a protezione in caso di sismica quindi cioè abbiamo valutato anche questo aspetto qua perché è un elemento molto fragile quindi in caso diciamo di azione dinamica cioè si spezza e viene giù quindi perché non faccia il cosiddetto mucchio in terra perché non regge nulla questo è attaccato alla struttura abbia anche questo aspetto l'altra cosa che ci interessa su questo aspetto qua è che cioè è l'applicazione di una metodologia che noi comunque conosciamo cioè il casentino è un luogo dove ci sono ancora costruzioni tutt'ora fatte con il sistema di terra cruda quindi non abbiamo reinventato nulla abbiamo cercato di rileggere quello che è l'aspetto delle tipicità del luogo e dell'architettura del luogo mi fermo qui grazie grazie molto allora la documentazione come vi dicevamo è disponibile sul sito dell'evento i video su lava e brianza plastica che vi mostrano il sistema ma anche la posa e le casistiche che vi sono state indicate sono sui canali youtube però vi manderemo i link quindi poi ritrovate tutto quello che avete visto ritroverete anche in modo più come dire illustrato e documentato in opera se c'è qualche domanda i relatori sono con noi io non so se c'è un microfono un gelato se no può alzarsi alta voce si presenta ci proviamo si no c'è ci dicono che c'è grazie io vorrei fare un tanto di ringraziamento per i programmi e per la gentilezza degli sponsor che ci hanno invitato io vorrei fare tuttavia una domanda all'architetto o al professore non so franceri perché ci ha fatto vedere un ottimo lavoro fatto su Santa Maria Novella qui vicino che ha riqualificato in certo qual modo l'edificio però la domanda è questa ma l'isolante se gli ambienti sotto non sono abitati o non sono riscaldati potrebbe essere stato un intervento inutile o tutt'al più ha creato ulteriori problemi perché ha surriscaldato la copertura e quindi ecco la necessità di farla ventilata no in questo senso è finita la domanda vuole no poi c'era un'altra domanda anche successiva all'ultimo relatore perché ha parlato di zona sottoposta a venti e a cloruri e allora il legno come si giustifica nel senso che bisogna sapere che lì ci sarà una manutenzione piuttosto ravvicinata di quelle strutture e un'altra questione poi che avendo fatto un grigliato di legno tra il primo piano e il piano superiore ha levato una specie di compartimentazione forse non ce n'era bisogno non c'era bisogno ai fini sismici di avere una unicità di solaio e poi anche quello è l'aspetto di sicurezza sono quattro domande no finisco l'aspetto di sicurezza sui cannelli fotovoltaici e mi è sembrato che essendo in falda fossero facilmente accessibili anche dai vicini grazie grazie a voi allora parto io che era la prima domanda poi passo al collega allora sostanzialmente l'obiettivo è quello di preservare e isolare e quindi lavorare a involucro è naturale che come ha detto il collega poi ci possono essere tante strade nel caso di Santa Maria Novella noi dovevamo comunque partire dal presupposto che dovevamo preservare la parte strutturale e tutto quello che gli sta sotto è evidente che se io creo già uno scudo diciamo termico e quindi vado già a migliorare quello che è la prestazione dell'ultimo involucro che poi viene naturalmente coperto con un manto finale preservo quello che è la struttura portante della falda nuova di nuova edificazione e creo già delle condizioni di stabilità termica quindi non vado a lavorare non ho diciamo non ho degli shock termici che in qualche maniera dovrei preservare rispetto invece alla struttura più interna cioè quella delle cupole e tutto quello che è poi l'ambiente interno quindi sostanzialmente la scelta poi può essere anche fatta diversamente se quello stesso spazio fosse stato abitabile direttamente subito sotto la falda sicuramente a livello progettuale sarebbero state poi prese altre soluzioni per poter rendere abitabile e maggiormente protetto quell'area in questo caso invece è stata studiata una stratigrafia per poter diciamo cominciare a risolvere quelle che sono una serie di problematiche date dall'isolamento dall'impermionalizzazione e dalla protezione della struttura e poi naturalmente quello che è il mantenimento di una temperatura più o meno standardizzata in tutti quei locali è evidente che lo spazio per cui il rapporto di forma come è stato anche anticipato prima ha sicuramente una problematica perché noi ritroviamo sicuramente un movimento termico che va all'interno di uno spazio che è stretto e alto e quindi sicuramente poi nella parte invece di gestione e quindi qui entra anche il discorso impiantistico si va a operare per riuscire a recuperare parte di questo calore oppure per rigenerare l'ambiente in maniera tale che ci sia un ottimo comfort senza lo spreco però per quello che riguarda l'abrianza plastica che punta sicuramente sui materiali di isolamento è imprescindibile quello di andare ad ottimizzare quello che è la prestazione dell'involucro esterno quindi di quello che è il manto o quantomeno lo scudo difensivo tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno in questo caso l'ambiente è anche più vicino all'ambiente esterno che la parte solitamente strutturale che deve essere in qualche maniera tutelata da quelli che sono i shock termici e dei suoi riscaldamenti soprattutto estivi lascio la parola ci vogliamo ci vogliamo allora sì è indubbio che fare una presentazione diciamo di tre interventi si riesce diciamo difficilmente a dare poi delle informazioni spesso o perlomeno si passa diciamo su alcune questioni allora credo diciamo di aver capito il primo fatto perché il legno e perché il legno è in manutenzione ma innanzitutto c'è da dire che ci sono delle navi a Pisa che sono dei vichinghi sono fatte in legno quindi cioè dipende molto da come lo si fa lavorare dove lo si posiziona e gli stelle e contro gli stelle che sono stati messi nella copertura del tetto prima di tutto sono trattati a sali di rame quindi non stiamo parlando diciamo di prodotti quindi con impregnamento in autoclave e sono prodotti che oggi stiamo parlando appunto di sperimentazione che ha già fatta oggi di 30 anni quindi cioè e tutto dipende chiaramente dalle condizioni di lavoro in cui lo mettiamo questa è una prima considerazione non stiamo parlando che ci sia la necessità di dover smontare il tetto dopo 4-5 anni per dover andare a trattare non è una finestra quindi è protetta appunto dall'irraggiamento solare è protetta da quello che sono gli aspetti legati all'umidità perché l'umidità non c'è sappiamo benissimo oggi visto che io collaboro anche con il CNR Valsa che è qui a sesto che il legno ha una durabilità praticamente indefinita rispetto a per esempio alla struttura in cemento armato che è oggi la struttura meno durabile nel tempo dovuta agli aspetti legati al fatto che usiamo dell'acqua e quindi copriferri eccetera eccetera l'altra questione mi sembra di aver capito era finalizzata alla struttura del piano solaio il piano solaio per chi non si occupa di legno lo capisco ma chi si occupa di legno si fanno il rigidimento dei solai senza bisogno della cappa del cemento armato cioè ormai è cosa ben risaputa che si possono fare attraverso un sistema di uso di tavolame strutturale o di OSB strutturale OSB3 OSB4 attraverso un sistema di chiodatura o avvitatura tale che si crea un piano infinitamente rigido con un peso inferiore del 70% nei confronti per esempio di un sistema di tipo laterizio o latrocementizio l'altra questione non ho capito bene che faceva riferimento all'impianto fotovoltaico per l'accesso per la facilità di accesso eh sì tutti i tetti hanno la facilità di accesso cioè siamo in un centro antico e quindi cioè come possa andare diciamo nel non a caso abbiamo messo dei dispositivi di controllo perché comunque non è stato detto ma eh dovendo eh avere poi l'80% su è stato ottenuto ottenendo il massimo punteggio del sistema che dicevo prima cioè quello appunto dell'architettura sostenibile della regione toscana ciò vuol dire che c'è un impianto di controllo appunto per la pericolosità dell'effrazione non soltanto per il file fotovoltaico ma semplicemente perché si può saltare da un tetto accanto dentro diciamo il terrazzo di questi vicini ecco quindi diciamo capisco ripeto che si cerca diciamo di essere estremamente sintetici quindi alla fine passano delle cose che uno non riesce a capire però volentieri se ci sono altre cose da contro la folgorazione beh l'impianto fotovoltaico se mi permette sono ampiamente cioè per legge sono diciamo oltre che l'impianto di messa a terra lì abbiamo fatto una verifica specifica per quanto riguarda gli aspetti legati appunto a siccome lì tutto intorno ci sono edifici più alti però l'abbiamo fatto all'averia lo stesso per quanto riguarda appunto l'azione dei fulmini quindi cioè l'impianto fotovoltaico oltretutto la struttura invece portante l'impianto fotovoltaico è in acciaio è stata messa completamente a terra quindi c'è già stato due eventi anche piuttosto significativi una tromba d'aria e anche una serie diciamo di problemi legati anche perché siamo sul mare quindi per ora per fortuna non abbiamo avuto difficoltà ci sono altre domande? Sì, grazie Buonasera Buongiorno Volevo un'informazione sui pannelli in terra cruda la possibilità di utilizzarli all'interno di strutture resistenti nella riqualificazione sia per migliorare il comfort che magari per controllare l'umidità anche eventualmente anche insieme ad altri materiali isolanti o meno grazie Sì dunque allora per quanto riguarda terra cruda è un'esperienza che abbiamo iniziato appunto con l'azienda Solava nel senso che è un materiale che come sapete diciamo anche qui sempre i nostri cugini trentini ci hanno detto che era un elemento interessante per Intonaci e Compagnia Vella noi abbiamo semplicemente applicato ripeto meccanicamente proprio per il fatto di non andare a creare un elemento diciamo diversificato tra struttura appunto come diceva Secco e l'altra però è applicabile con lo stesso criterio quindi con listelli quello che è ovvio non bisogna fare è opporre la tavella o un altro diciamo tipologia sempre in terra cruda quindi lasciare un intestizio che ci sia anche addirittura la possibilità di creare un minimo di moto convettivo all'interno della parete quindi con un fissaggio questi sono un fissaggio meccanico quindi si può ripeto fare qualcuno ha pensato di creare listelli anche qui in acciaio o in materiali riciclato tipo plastiche eccetera quindi è un elemento diciamo in evoluzione l'esperienza che abbiamo fatto in questi tre quattro interventi reali quindi in costruzione dove ci abitano persone ha dato un ottimo risultato il fatto che la struttura portante in alcuni casi sia in legno è un vantaggio da un lato perché non l'ho detto ma lo capite bene aumenta anche l'aspetto diciamo della massa e conseguentemente migliora nell'ambito delle costruzioni a secco in legno quello che è l'appunto l'apporto che in caso specifico quindi il valore della densità è limitata la terra cruda è un miglioramento anche in quel senso appunto l'applicazione quello che io mi permetto di consigliare è comunque un sistema montato a secco quindi anche perché non provoca problematiche anche a livello di cantiere cioè dover portare questo materiale la malta eccetera eccetera l'applicazione ripeto si può fare sia su profili in questo caso in legno si possono fare su profili in alluminio o altre tipologie è chiaro che ogni volta che si varia queste cose dobbiamo inserire delle valutazioni diverse sistemi di scarico per esempio cariche elettrostatiche e altre cose di questo genere buongiorno sono l'architetto Gandolfi di Bologna da Bologna innanzitutto complimenti per l'organizzazione di questi eventi la mia domanda è questa l'efficienza energetica dell'edificio è una riflessione una domanda generica e quindi il loro isolamento insomma appunto per cercare di contenere i consumi al massimo a volte in contrasto con quello che si chiama l'inquinamento indorcio l'inquinamento interno degli ambienti noi ci occupiamo parecchio di sanità qui adesso il tema è più sulla residenza però è un tema molto sensibile in particolare per le strutture sanitarie ospedali eccetera quindi qual è dal punto di vista impiantistico secondo voi o di isolamento quello che meglio riesce a diciamo a soddisfare entrambi i requisiti cioè la solubrità dell'ambiente interno con il contenimento dei consumi grazie non so chi vuole rispondere se c'è sì chi vuole di voi è un problema particolarmente sentito perché come sa benissimo anche lei lo IACU è uno dei parametri che è rientrato nella nuova direttiva europea per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici quindi sono aspetti particolarmente sentiti con il recepimento della tribuna da punto di vista poi di approccio come combinare l'efficienza energetica con la salubrità con il ministero della sanità stiamo lavorando per determinare una modalità di utilizzo di alcuni prodotti soprattutto in ambienti particolari come quelli sanitari che abbiano rilasci molto basi per quanto riguarda le sostanze inquinanti dell'atmosfera e questo lato materiale lato impianto chiaramente qui la questione si complica non poco perché per poter far sì che ci sia un tasso di inquinamento il più basso possibile perché eliminarlo totalmente sarebbe un'idiozia quindi il più basso possibile c'è necessità che negli impianti di ventilazione meccanica e anche in quella mista ibrida naturale meccanica vengono installati una serie di filtri che come sa sono classificati adesso con una norma che non andiamo a riprendere ma che comunque hanno un certo costo e allora nell'ambito di quelle che sono le procedure da applicare in maniera che il costo sia limitato nel tempo rispetto all'intervento e che abbia dal punto di vista manutentivo qualcuno l'ha richiamato prima ma è giusto un costo accettabile per l'utenza si sta valutando come in questi impianti di ventilazione possano essere utilizzati alcune tipologie di filtro che abbattano il più possibile l'inquinamento indoor senza dimenticare però che noi ragioniamo l'inquinamento indoor che giustamente deve essere contenuto ma dobbiamo anche fare riferimento a quello che c'è fuori perché quello che c'è fuori ce lo portiamo dentro quindi anche dal punto di vista nei sistemi di ventilazione meccanica di captazione dell'aria esterna si sta pensando di utilizzare altre tecnologie non più soltanto quella dei carboni attivi per far sì che l'aria immessa nell'ambiente contenga almeno possibile soprattutto delle particelle PM10 che come sa sono quelle più critiche da catturare buongiorno buongiorno avrei una domanda per gli architetti francieri e panchi riguardo gli interventi gli esempi di interventi che avete mostrato o anche altri interventi dal momento che ad un beneficio tecnico poi corrisponde anche un beneficio economico nel tempo avete analizzato in fase di progettazione la fattibilità economica di questi interventi magari tramite un'analisi dell'ammortamento un tempo di ritorno dell'investimento qualcosa del genere grazie io in qualità rispondo più in qualità di progettista che di rappresentante Brianza Plastica ovviamente Brianza Plastica ha elaborato quelle che possono essere delle valutazioni sul risparmio però come abbiamo già spiegato in questa giornata in realtà difficilmente possiamo creare come dire un modulo o un sistema per cui diciamo c'è questa soluzione che valida per tutti quanti e ha questo costo e ha questo ritorno indubbiamente ed è questo secondo me come dire l'upgrade tecnico e culturale che ha il progettista in questa fase storica è quella di dover confrontarsi non solo con le specifiche dei materiali ma in qualche maniera avere una visione molto più ampia e in questo caso fortunatamente abbiamo un supporto che è dato da alcuni software che aiutano quello che è un pochettino la valutazione introducendo quelli che sono alcuni parametri sui costi energetici per cui possiamo in qualche maniera se riusciamo a individuare qual è il risparmio del kilowattora sulla struttura o comunque sull'involucro o sull'edificio in qualche maniera poi possiamo parametrarlo su quelli che sono i risparmi sia in termini economici che di CO2 per esempio non consumate quindi in qualche maniera diciamo le formule di calcolo ci sono come dire a seconda anche della portata economica si trova su internet si trova moltissimo sia in freeware che a pagamento è evidente che non può l'azienda singola dire io ti posso perché sarebbe quasi impossibile perché un prodotto da solo non fa la differenza un prodotto deve essere introdotto in un sistema molto più ampio che è un sistema involucro che lavora con un sistema impianto che lavora in quella zona climatica piuttosto che in un'altra che ha quella funzione piuttosto che in un'altra quindi le variabili in campo sono troppe e solo chi lavora è il team che progetta quel tipo di oggetto ha in mano tutti i dati per poter fare una tabellizzazione e quindi fare una valutazione reale è in dubbio io ripeto parlo come progettista che nel momento in cui io propongo al mio cliente delle soluzioni tecniche dei materiali dei prodotti è evidente che gli devo dire che andiamo verso un certo costo e che dobbiamo in qualche maniera fare questo investimento per poter avere un agio economico di risparmio in un tempo abbastanza lungo però ripeto anche lì se andate a vedere su internet trovate un sacco di ricerche di mercato che vi dicono per esempio qual è il miglioramento il recupero economico quando io vado a sostituire una finestra con che tipo di tecnologia la vado a sostituire quale può essere più o meno il payback in tempi rispetto al materiale isolante rispetto ad altre soluzioni impiantistiche quindi in realtà si può anche fare una sorta di benchmark per poter poi presentarsi anche al cliente e dare almeno una valutazione quantomeno valutativa del risparmio che si può avere rispetto a determinate scelte però scusate no sì allora scusa scusa io vorrei un chiarimento fermo restando che quello che ha detto il collega sicuramente era giusto comunque il discorso del payback o del tempo di ritorno del van è chiaro che questo va calato singolarmente per intervento per singolo edificio per singole condizioni quindi non esiste una bacchetta magica per cui possiamo affermare che un certo tipo di intervento indipendentemente da dove si si applichi abbia quel tempo di ritorno il tempo di ritorno purtroppo il progettista lo deve valutare volta per volta situazione per situazione tenendo conto che entra in gioco il costo dell'energia che come sapete è molto ballerino e varia da regione a regione quindi voglio dire non c'è una ricetta ecco c'è soltanto la metodologia di approccio al problema e poi giustamente come si diceva prima ogni volta bisogna farsi le valutazioni del caso sì niente allora la risposta è sì assolutamente sì negli interventi che sono stati fatti è stato appunto fatto un piano di lavoro di tipo economico basandosi su un elemento immediato di raffronto innanzitutto quanto costava quell'intervento realizzato omnicomprensivo da un'unica azienda quindi c'è compresa diciamo le spese che sapete benissimo che vengono effettuate attraverso la ricommercializzazione di un prodotto e in questo caso alla fine il risultato è stato che la spesa complessiva è rimasta all'interno di un intervento di riqualificazione di tipo standard quindi c'è non è assolutamente vero che gli interventi di riqualificazione debbono per forza costare di più è una formula inesistente possono costare uguale però avere un fattore prima di tutto come è stato detto di qualità dell'intervento che non è paragonabile ad altri l'altro aspetto è quello invece per esempio in uno di questi interventi vi dico era un collega un progetto per un collega ingegnere che era partito con l'idea di fare per esempio un impianto a pavimento sono riuscito dopo poche riunioni abbiamo fatto a convirci di non farlo quindi una riduzione drastica per esempio abbiamo fatto un piccolo investimento in più su quello che riguardava l'isolamento termico dell'involucro sulla qualità dei materiali dell'isolamento termico dell'involucro e alla fine quindi questo si è ridotto perché abbiamo fatto un sistema di impianto a bassa temperatura sì ma per esempio tradizionale quindi l'uso di certi aspetti è molto legato alla tipicizzazione dell'intervento e della qualità dei soggetti a cui andiamo a fare però la risposta per non essere generico è sì cioè gli interventi sono stati valutati economicamente fino in fondo perché comunque sono persone l'ho detto prima ho portato un esempio più esempi cioè di persone normalissime che non possano fare investimenti grossi se non quelli legati a un livello qualitativo di risultato finale ci sono stato ieri a una di queste costruzioni e questi sono giovani relativamente giovani sono estremamente soddisfatti perché hanno avuto già il primo anno cioè di diciamo di uso di questo di questo sistema pure ampliato quindi con una piccola appartamento nella parte superiore hanno ridotto i consumi e non perché hanno tenuto spento il riscaldamento hanno ridotto i consumi del 35% avere un piano in più altre domande sì scusate io vedendo il titolo come realizzare il recupero del patrimonio esistente in chiave energetica qui dalla riunione mi manca un pezzo cioè il recupero degli edifici del centro storico come interveniamo noi abbiamo delle cornici in pietra degli stipidi quindi questo è un aspetto che lega tutta l'Italia nei piccoli centri e nei grandi centri quindi mi sembra di rilevanza immensa non abbiamo nessun tipo di strumento per intervenire quindi se ci sono meglio io infatti la domanda era riferita a questo esiste qualcosa allora sono ansioso di scusate ma no 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 Gianfranco se vuoi ma non funziona ah no vabbè allora i livelli di intervento come si è detto prima vanno calibrati è chiaro che se io sono a Palazzo Pitti tanto per essere in un posto qualsiasi ma prendiamo no 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 è chiaro ma ora era scusate un'eccezione insomma un'eccezione quindi comunque io l'edificio che vi ho fatto vedere l'intervento sulla facciata non l'abbiamo fatta sulla parte del corso non perché era impossibile o perché la soprintendenza ci avrebbe bloccato il lavoro perché prima di tutto le modanature oggi si possono rifare tutte indistintamente in maniera veloce è chiaro che è la sensibilità progettuale che induce ad alcune tipologie di intervento di non farle ma la casistica sul livello qualitativo degli interventi di riqualificazione compreso per esempio l'aspetto legato agli impianti abbiamo io ho parlato della copertura la copertura è un luogo dove si può far funzionare molto meglio tutto il sistema dell'edificio proprio per l'isolamento per il sistema di ventilazione per l'introduzione di una parte di impiantistica come quello che si è detto fino ad ora legata all'uso per esempio di sistemi che lavorano a bassa temperatura cioè questa è un'altra cosa importante cioè quindi non pensiamo soltanto a soluzione quella cappotto cioè quella è una delle opportunità che per fortuna o progettuale e non perché abbiamo un patrimonio che è i tre quarti costruito post guerra dove i cappotti si possano fare cappotti impermeabili trench si possano fare tutti perché non c'è un problema ora se poi nel centro storico ho la voglia per esempio di alcuni colleghi che è quella di mettere le tegole fotovoltaiche sulla copertura io andrei lì col martello delle spacchiere tutte perché è la voglia del fotovoltaico non si può fare non si fa cioè nel senso punto cioè si fanno altre soluzioni quindi non arrocchiamoci sul fatto di voler per forza inserire tutte le tecnologie possibili immaginabili che esistano sul mercato se il cappotto no no mi scusi no no ma invece è stato interessante per dire che ripeto cioè ci sono alcuni casi dove un altro esempio cioè qui a Firenze c'è stato un altro palazzo vecchio quindi altra cosa uno studio di diverso tempo per operare nella riqualificazione che non abbiamo veduto ma che c'è stata di palazzo vecchio che è dettato dalle superfici finestrate dagli interventi sul tetto dagli interventi sui solai quindi cioè si possano fare delle cose che non hanno quella visibilità immediata ma che hanno alla fine e portano comunque un grande risultato io direi di chiudere il lavoro vi ringrazio per la presenza seguitici in tour che continua appunto Roma Napoli Mestre Milano nei prossimi mesi e seguitici anche naturalmente online grazie a tutti e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti